Ma che dà la sua trasmissione? Quale trasmissione? Cosa che sono venne in tele-regione? E te balla? E fa che mi dà coro, iddata, intervistata E che lo guarda? Ma, mi pare che sono chiesto che si chiamata Rossano Dore E chi è chiesto Rossano Dore? Come chieste? Io sono! Sardincoro, un programma di Gianni Langiu Ogni mercoledì alle 21 su tele-regione